21 gennaio, Sant'Agnese, Vergine e Martire. Non abbiamo ancora esaurito la splendida assemblea di martiri che si incontra in questi giorni dell'anno. Ieri Sebastiano, domani Vincenzo, che porta la vittoria fin anche nel suo nome. Tra questi grandi santi appare oggi la giovanissima Agnese. È a una fanciulla di 13 anni che l'Emanuele ha dato il coraggio del martirio. Essa avanza nell'arena con un passo fermo al pari di quello dell'ufficiale romano e del diacono di Saragozza. Se questi sono i soldati di Cristo, quella ne è la casta amante. Ecco il trionfo del figlio di Maria. Egli si è appena manifestato al mondo che tutti i nobili cuori volano verso di lui secondo quelle parole. Dove sarà il corpo, ivi, si radunneranno le aquile. Mirabile frutto della virginità della madre sua che ha tenuto in onore la fecondità dell'anima molto al di sopra di quella dei corpi. Essa ha aperto una nuova via attraverso la quale le anime elette avanzano rapidamente fino al divino sole di cui il loro sguardo purificato contempla senza nubi i raggi poiché egli ha detto Beati pur di cuore perché vedranno Dio. Gloria immortale della Chiesa Cattolica, la sola che possieda nel suo seno il dono della virginità, principio di tutte le dedizioni poiché procede unicamente dall'amore. Sublime onore per Roma cristiana aver prodotto Agnese, questo angelo della terra davanti a cui impallidiscono le antiche vestali la cui virginità ricolma di favori e di ricchezze non fu mai provata dal ferro e dal fuoco. Quale fama può paragonarsi a quella di questa fanciulla il cui nome sarà letto sino alla fine del mondo nel canone della messa? L'orma dei suoi innocenti passi dopo tanti secoli è ancora impressa nella città santa. Qui sull'antico circo agonale sorge un tempio che dà accesso a quelle volte già contaminate dalla prostituzione e ora fragranti del profumo di Sant'Agnese. Più lontano sulla via Nomentana fuori dalle mura di Roma una magnifica basilica costruita da Costantino custodisce sotto un altare rivestito di pietre preziose il casto corpo della Vergine. Sottoterra attorno alla basilica hanno inizio e si estendono vaste cripte al centro delle quali Agnese riposò fino al giorno della pace e dove dormirono come il suo guardia d'onore migliaia di martiri. Ne dobbiamo passare sotto silenzio il grazioso omaggio che rende ogni anno la santa chiesa di Roma la giovane Vergine nel giorno della sua festa. Vengono posti sull'altare della basilica Nomentana due agnelli che ricordano insieme la mansuetudine del divino agnello e la dolcezza di Agnese. Dopo essere stati benedetti dall'abate dei canonici regolari che prestano servizio in quella chiesa vengono portati in un monastero di religiose che li allevano con cura e la loro lana serve per tessere il pallium che il sumo pontefice deve mandare come segno della loro giurisdizione a tutti i patriarchi e metropoliti del mondo cattolico. Così il semplice ornamento di lana che quei prelati porteranno sulle spalle come simbolo della pecora del buon pastore e che il papa prende sulla tomba stessa di San Pietro per inviarlo a essi recarà fino agli estremi confini della chiesa il duplice sentimento della forza del principe degli apostoli e della dolcezza virginia di Agnese. Riporteremo ora le meravigliose pagine che Sant'Ambrogio nel suo libro sulle vergine ha consacrato alla lode di Sant'Agnese. La chiesa ne legge la maggior parte nell'ufficio di oggi e la vergine di Cristo non poteva desiderare il miglior paneggirista del grande vescovo di Milano il più eloquente dei padri in tema di verginità e il più persuasivo poiché la storia ci dice che nelle città in cui predicava le madri trattenevano in casa le figlie per timore che le ardenti parole del prelato accendessero in loro un così ardente amore per Cristo da vederle rinunciare al matrimonio. Dovendo scrivere un libro sulla verginità dice il grande vescovo mi ritengo onorato di poterlo aprire con l'elogio della vergine la cui solennità ci riunisce e oggi la festa di una vergine cerchiamo la purezza e oggi la festa di una martire immogliamo vittime e oggi la festa di Agnese si sentano pieni di ammirazione gli uomini non si perdano d'animo i fanciulli guardino con stupore le spose e le vergini cerchino di imitare ma come potremo parlare degnamente di colei della quale il nome stesso racchiude l'elogio il suo zelo è stato superiore all'età e la sua virtù superiore alla natura di modo che il suo nome non sembra un nome umano ma piuttosto un oracolo che presagiva il suo martirio il santo dottore fa qui allusione alla parola agnello da cui si può derivare il nome di Agnese lo considera quindi come formato dal termine greco agnos che significa puro e continua così il suo discorso il nome di questa vergine è neanche un titolo di purezza devo dunque celebrarla come martire come vergine è una lode abbondante ne si ha bisogno di cercarla esiste già di per sé si ritiri il rettore e amutolisca l'eloquenza una sola parola il suo solo nome l'odagnese la cantino dunque i vecchi i giovani e i bambini celebrino tutti gli uomini questa martire poiché non possono pronunciare il suo nome senza lodarla si narra che aveva 13 anni quando subì il martirio orribile crudeltà del tiranno che non risparmia un'età così tenera ma più ancora meraviglioso potere della fede che trova testimone di quell'età c'era posto in un corpo così piccolo per le ferite la spada trovava appena su quella fanciulla un luogo dove colpire eppure agnese aveva in sé il modo di vincere la spada a quell'età la giovinetta trema lo sguardo dirato della madre una puntura d'ago le strappa le lacrime come se fosse una ferita intrepida tra le mani sanguinose dei carnefici agnese rimane immobile sotto le pesanti catene che le opprimono ignara ancora della morte ma pronta a morire presenta tutto il corpo alla punta della spada di un soldato furente viene trascinata su malgrado agli altari essa stende le braccia a cristo attraverso i fuochi del sacrificio e la sua mano forma fin sulle mani sacriliche quel segno che è trofeo del signore vittorioso passa il collo e le mani attraverso i ferri che le vengono presentati ma non se ne trovano che possano stringere membra così esili nuovo genere di martirio la vergine non ha ancora l'età del supplizio ed è già matura per la vittoria non è ancora matura per il combattimento ed è già capace della corona aveva contro di sé il pregiudizio dell'età ed è già maestra in fatto di virtù la sposa non va verso il letto nuziale con la stessa premura di questa vergine che avanza piena di gioia con passo veloce verso il luogo del supplizio ornata non di una capigliatura acconciata regola d'arte ma di cristo incoronata non di fiori ma di purezza tutti piangevano essa sola non piange ci si meraviglia che offra così facilmente la vita che ancora non ha gustato che la sacrifichi come già l'avesse esaurita tutti stupiscono che sia già il testimone della divinità a un'età in cui non potrebbe ancora disporre di sé stessa le sue parole non avrebbero valore nella causa ad un mortale ma sono credute oggi nella testimonianza che rende a dio infatti una forza che al di sopra della natura non può derivare che dall'autore della natura stessa quali terrori non mise in atto il giudice per intimidirla e quante carezze per conquistarla quanti uomini la chiesero in sposa essa esclama l'amata fa ingiuria allo sposo e se si fa aspettare mi avrà soltanto colui che per primo mi ha scelta perché tardi o carnefice perisca questo corpo che può essere amato da occhi che io non gradisco si offre prega e chi nel capo avreste potuto vedere il carnefice tremare come se egli stesso fosse stato condannato la sua mano esitante il suo volto pallido come per un estraneo pericolo mentre la giovinetta contemplava senza alcun timore il proprio pericolo ecco dunque in una sola vittima un duplice martirio uno di castità l'altro di religione agnese rimase vergine e ottenne il martirio la chiesa romana canta oggi i magnifici responsori nei quali agnese esprime con tanta suavità il suo innocente amore e la beatitudine che prova nell'essere disposta a cristo sono formati da parole tratte dagli antichi atti della martire attribuiti per lungo tempo a sant'ambrogio il mio sposo ha ornato di pietre preziose il mio collo e la mia mano a posto ai miei orecchi perle inestimabili e mia tutta addornata di pietre fini e scintillanti ha lasciato il suo segno sul mio viso affinché non ammetta altro amante che lui e mia tutta addornata io amo cristo e sarò la sposa di colui la cui madre è vergine di colui che il padre ha generato spiritualmente di colui che già fa risuonare mie orecchi le sue armoniose note se l'amo sono casta se lo tocco sono pura se lo possiedo sono vergine mi ha dato un anello come pegno della sua fede e mi ha ornata ad una ricca collana ho succhiato il miele e latte sulle sue labbra e il suo sangue colora le mie gote mi ha mostrato tesori incomparabili dei quali mi ha promesso il possesso e il suo sangue di già per alimento celeste la sua carne è unita alla mia e il suo sangue colora le mie gote e lui la cui madre è vergine e che padre ha generato spiritualmente sono unita a colui che gli angeli servono a colui del quale il sole e la luna ammirano la bellezza e lui la cui madre è vergine e che il padre ha generato spiritualmente come è dolce e forte ogniese l'amore di gesù tuo sposo come si impadronisce dei cuori innocenti per trasformarli in cuori intrepidi che cosa ti importava nel mondo e i suoi piaceri il supplizio e le sue torture che dovevi temere della terribile prova cui volle sottometterti la feroce derisione del persecutore il rogo la spada non erano nulla per te il tuo amore ti diceva abbastanza che nessuna violenza umana ti avrebbe rapito il cuore dello sposo divino avevi la sua parola e sapevi che egli è fedele o fanciulla così pura in mezzo al contagio di roma così libera in mezzo a un popolo schiavo come apparente carattere del manuele egli è l'agnello e tu sei semplice come lui è il leone della tribù di giuda e come lui tu sei invincibile quale dunque la nuova stirpe discesa dal cielo che viene popolare la terra o vivrà per lunghi secoli questa famiglia cristiana uscita dai martiri che conta tra i suoi antenati eroi così magnanimi vergini fanciulli a fianco di pontefici e di guerrieri tutti ripieni di un fuoco celeste che aspirano solo a uscire da questo mondo dopo aver sparso il seme delle virtù così sono riavvicinati a noi gli esempi di cristo dalla catena dei suoi martiri per natura essi erano fragili come noi dovevano vincere i costumi pagani che avevano corrotto il sangue dell'umanità eppure erano forti e puri volgi gli occhi su di noi o agnese soccorrici l'amore di cristo languisce nei nostri cuori le tue battaglie ci commuovono versiamo qualche lacrima al racconto del tuo eroismo ma siamo deboli contro il mondo e i sensi infrolliti dalla continua ricerca dei nostri comodi e da un folle sperpero di quella che chiamiamo sensibilità non abbiamo più coraggio di fronte ai doveri non è forse vero dire che la santità non è più compresa essa stupisce e scandalizza la giudichiamo imprudente ed esagerata eppure o vergine di cristo tu sei lì davanti a noi con le tue rinunce i tuoi ardori celesti la tua sete della sofferenza che conduce a gesù prega per noi indegni elevaci al sentimento di un amore generoso e operante vi sono sì anime forti che ti seguono ma sono poche aumenta nel numero con le tue preghiera finché l'agnello in cielo abbia un numeroso seguito tu ci appari o vergine innocente in questi giorni in cui ci stringiamo intorno alla culla del divino bambino chi potrebbe descrivere le carezze che tu prodighi a quelle di cui egli ti ricolma lascia tuttavia che i peccatori si accostino a questo agnello che viene a riscattarli e raccomandali tu stessa a quel gesù che hai sempre amato guideci a maria la tenera e pura agnella che ci ha dato il salvatore tu che rispecchi in te il soave splendore della sua virginità ottienici da essa uno di quegli sguardi che purificano i cuori intercedi o agnese per la santa chiesa che anche la sposa di gesù è essa che ti ha generata al suo amore ed è da essa che anche noi abbiamo la vita e la luce ottieni che sia sempre più feconda di vergini fedeli proteggi roma dove la tua tomba è tanto gloriosa benedici i prelati della chiesa chiedi per essi la dolcezza dell'agnello la fermezza della roccia lo zelo del buon pastore per la pecorella smarrita e infine si l'aiuto di tutti coloro che ti invocano e il tuo amore per gli uomini si accenda sempre di più a quello che brucia nel cuore di gesù grazie grazie